Ci siamo fidati ma ci siamo stancati, queste le parole pronunciate dagli amministratori in apertura del tavolo di emergenza E45 convocato a San Piero in Bagno. L'iniziativa è stata promossa per esprimere tutta la preoccupazione degli enti, delle imprese e dei residenti del territorio per il protrarsi della situazione provocata dall'interruzione del traffico sulla superstrada E45 a chiusura del viadotto Puleto tre mesi fa e della risposta finora mancata per dare sostegno a famiglie e imprese colpite in difficoltà. Allora io ho un ristorante che è vicino alle E45, ho 20 operatori che lavorano con me e da quando è stata chiusa alle E45 subito immediatamente appena è stato chiuso tutto il traffico abbiamo perso l'80% del fatturato. Quando sono state riaperte la possibilità al traffico leggero di passare abbiamo recuperato qualcosa però ancora siamo a circa la metà del fatturato che facevamo prima. Quindi oggi qui per chiedere in qualche maniera aiuto? Sì certo, chiedere soprattutto l'attenzione a questa diciamo problematica importantissima per il nostro territorio ma non solo per la mia impresa, c'è tutta la Valle del Savio per quello che riguarda il nostro territorio implicata. E dopo le amministrazioni e l'associazione di categorie è stata data la parola anche alla cittadinanza e a coloro che hanno fatto le proprie lamentele e avanzato le proprie richieste. Noi siamo a favore della procura che indaghi. Mi dispiace di sentire col sindaco Baccini che ha detto noi vogliamo che la E45 il puletto sia riaperto subito. No, noi non vogliamo che sia riaperto subito perché se è stato chiuso dalla procura in un modo precauzionale visti poi il dramma del Morandi e non ci sarà soltanto quello. Credo che la procura a questo punto deve indagare fino in fondo e deve tirare fuori chi ha speculato, chi ha mangiato e chi ha preso in giro i cittadini per 40 anni.